Edoardo Soppa, Ciavoliana Moreira, Roberta Lafranchi, Roberta adesso è il tuo momento perché adesso, dov'è Brumotti? Dopo avremo Brumotti se c'è la notizia però siamo pronti per la nostra gara di mountain bike qui in questa piazza Cesare Battisti, molto bella, ringraziamo anche come al solito sì? Volevo ringraziare innanzitutto il comune di Riva del Garda e il Grand Resort du Lacroie du Parque che ci ospita e abbiamo qui il nostro maestro, ecco, maestro esperto, diciamo, atleta, si chiami? Dino allora Dino, che cosa dovranno fare qui i nostri amici? Facciamo la gara a prova su un percorso da mountain bike che fa più velocemente quindi è una prova di velocità, Roberta, ecco, una prova di velocità bene, allora, chi vuole cominciare? forza, allora, chi vuole cominciare, chi vuole cominciare? comincia un uomo, Tassinari, vieni eccolo, dalla pupa del secchione, Tassinari, comincia Tassinari, come va in bicicletta? meglio che coltriciclo meglio che coltriciclo, benissimo mamma mia allora, ci mettiamo il casco, ovviamente ecco, Dino ti mette il casco il percorso, allora devi salire anche la suta, Tassinari, eh? te la senti? mazzo come fai? e fai i tuoi calcoli matematici prendi la... sì, sì, ma non è vero, non ci devi andare, per favore poi ci tocca occuparci di te in altro modo ecco, allora, invece il percorso, Dino, da dove partono? da qua? ah, beh, ma è breve, è una... eh? allora, però, in questa, come si dice, radio conaca, diretto conaca, così non sono solo, ma abbiamo in qualità di commentatrice, di grande esperta on time bike, la mia compagna, in questo momento del lavoro, non nella vita, Giuliana Moraela grazie, grazie Ale ciao è una donna di poche parole, perché lei adesso si deve concentrare perché... no, Giulia, allora grazie a tutti